La Turchia unisce una struttura industriale molto solida, di antiche tradizioni in crescita, con un'atmosfera culturale, soprattutto tra le ultime generazioni, molto viva e molto viva in quei settori che poi danno l'infa alla moda, quindi arte, design, cinema e quindi moda. Quindi l'unione di queste due cose fa sì che la Turchia sia uno dei protagonisti, credo già ora ma anche in futuro, della moda internazionale. Ovviamente per noi invitare, aprire questa finestra sulla giovane scena moda turca significa anche fare promozione a Pitti e quindi significa anche fare conoscere al mercato turco che Pitti è una piattaforma internazionale, aperta e quindi meritevole di essere frequentata. I benefici consistono in ciò che trovano qua, il contesto, trovano un contesto internazionale di alta qualità commerciale, i migliori compratori al mondo nel settore uomo e anche nella donna sono qua, la stampa più importante è qua, quindi si realizza un cortocircuito commerciale comunicativo che credo che per loro sia veramente un grande valore. Stiamo lavorando su un gruppo di paesi che ci sembrano molto interessanti, uno è la Corea per esempio, la Corea del Sud, un altro è la Russia o la Ucraina, forse insieme, un altro ancora potrebbe essere Israele. Credo che da queste nazioni verranno fuori le prossime guest nation. Credo che la cosa più importante per noi è di affermare Pitti come una piattaforma internazionale aperta che ovviamente ruota intorno a un core italiano delle migliori aziende, però aperta sui nuovi protagonisti, aperta ai giovani. Questo è il messaggio più forte. Io sono inspirato da un grande architettico chiamato Mimar Sinan, e è stato conosciuto come un innovatore, è un grande architettico, e ha fatto più di 400 monumenti e mosche in Istanbul. e questo è il mio primo anno facendo menswear, e sono inspirato da mia propria collezione, quindi è la stessa inspirazione. E l'effetto che si vedete sulle jacket è di domi, e i colori sono anche inspirazione da suo lavoro. Quindi ogni settimana sono inspirato da ogni settimana, sono inspirato da molti conosciuti artisti, da questa cultura ottomanica e da nostra storia. Quindi sono davvero amace di poter comprare più e lavorare sulle inspirazioni. Grazie a tutti